La seduta del 27 novembre Il 27 novembre il Consiglio regionale ha approvato la delibera che modifica lo statuto della Fondazione Luigi Firpo, centro di studi sul pensiero politico, risalente al 1987. Gli emendamenti comportano la diminuzione del numero dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e di controllo della Fondazione. È stato poi affrontato il tema del riordino dell'ente, con il dibattito generale sulla proposta di delibera della Giunta per la razionalizzazione delle spese. L'arte di Nespolo a Palazzo Lascaris La mostra 1,618 Il numero d'oro, 20 serigrafie di Ugo Nespolo, frutto della collaborazione con la casa editrice Utet, è visibile a Palazzo Lascaris fino al 12 dicembre. La rassegna espone 20 opere dell'omonimo libro d'artista, dedicato alla simbolica cifra a cui fin dall'antichità vengono attribuiti i segreti della bellezza e dell'armonia. Le proporzioni geometriche espresse dal numero si trovano infatti nei grandi capolavori dell'arte e dell'architettura. Presepi in biblioteca È stata inaugurata il 28 novembre la biblioteca della regione di Via Confienza a Torino, la mostra I personaggi del presepe. Allestita con la collaborazione del collezionista Don Alberto Chiadò, la rassegna propone fino al 18 gennaio una serie di presepi provenienti da tutto il mondo. È seguita la conversazione musicale del musicologo Attilio Piovano e tutti i mercoledì fino al 19 dicembre si terranno conferenze sul Natale e le sue tradizioni. In ricordo di Carlo Casalegno Il 29 novembre, in corso di Umberto 54, il centro Pannunzio ha deposto una corona d'oro in ricordo di Carlo Casalegno, a 35 anni della morte, in seguito al barbero attentato subito sotto casa nel 1977 da parte delle Brigate Rosse. Alla presenza dell'autorità e dei gonfaloni di Comune e Provincia di Torino e della Regione Piemonte, è stata letta la motivazione della medaglia d'oro conferita a Casalegno dal Presidente della Repubblica. La biblioteca offre nuovi servizi Dal 28 novembre, tutti i mercoledì pomeriggio, la Biblioteca della Regione Piemonte in via Compienza 14 a Torino sarà aperta al pubblico fino alle ore 18. Inoltre, dal lunedì 3 dicembre, sarà possibile prendere in prestito i libri della biblioteca senza recarsi a Torino, ma ordinandoli direttamente dalle 9 sedi degli uffici Relazioni con il Pubblico della Giunta e del Consiglio, che si trovano in tutte le sedi provinciali. Grazie a tutti! Grazie a tutti!